Partita che sapevamo sarebbe stata un po' complicata, a parte perché Palermo sta giocando bene nelle ultime partite e anche perché noi venivamo comunque da una trasferta difficile in Russia, eravamo anche abbastanza stanche. Non siamo riusciti mai ad ammazzare la partita, anche se siamo stati sempre su per tutta la partita, anche perché Cooper ha giocato molto bene. Siamo stati bravi a limitare Gatling perché avevamo preparato la partita molto bene su di lei. Naturalmente è stato anche un po' difficile marcare Cooper perché forse avevamo il nostro miglior difensore che era Anette, che era quella con le caratteristiche che poteva marcare meglio Cooper, quindi abbiamo un po' subito questo. Poi allora ragazzi sono state brave a gestire la partita, siamo stati sempre sopra. Buona vittoria e questo serve per il morale per tutto il resto del campionato.